South Park non è un programma per tutti, puntata 2104. Attenzione, in questa video recensione dirò alcune anticipazioni, spoiler se volete, se non l'avete ancora vista, quindi occhio, se invece l'avete già vista, bene, magari vi farò notare qualche cosa in più. La puntata è, dal punto di vista del marketing, davvero una furbata, perché, perlomeno in America, è uscita in maniera da fare da lancio al videogioco. Scontri diretti in Italia che abbiamo doppiato sempre noi, noi intendo Cooperativa ODS. Tra l'altro sono da poco arrivato dalla conferenza legata a Voci nell'Ombra, al festival Voci nell'Ombra, dove si è anche parlato di videogiochi. Ci sono alcuni aspetti molto carini da analizzare, da guardare, soprattutto del doppiaggio dei videogiochi. E in particolare, questa puntata, facendo da Phil Rouge, da lancio, anzi da prequel, così come il titolo della puntata stessa, è molto interessante anche dal punto di vista degli adattamenti, perché l'ultima scena è presente quasi in maniera completa all'interno del videogioco, al lancio del videogioco. Ed è stato molto interessante analizzare le differenze tra l'adattamento del videogioco, che viene fatto in un determinato modo, e invece è quello del cartone animato, dove hai il testo, hai il video, hai la possibilità di guardare i labiali, di possibilità di guardare il movimento, e quindi delle cose un po' differenti. In questa puntata qualche frecciatina a Netflix, che in questo periodo, spero anche in futuro, sta dando un buon lavoro alle piazze del doppiaggio, sta riversando tanto materiale, e sta anche accettando molto materiale, molte idee, anche i draghi omosessuali, temi assurdi. Sto anche leggendo da un foglio, perché ho preso qualche appunto. Ah, la presenza, in questo caso è stato davvero molto strano. Adattare, trovare e doppiare Mark Zuckerberg, fuori sync. E subito quando l'ho incontrato nell'adattamento ho detto, come mai? Poi ho scoperto che probabilmente è per prenderlo in giro per una diretta, di una cosa virtuale che ha lanciato Facebook, dove il suo avatar parlava fuori sync. Quindi si sentiva questo avatar che muoveva la bocca, praticamente in maniera diversa. E altrettutto c'erano degli effetti un po' strani. La mia paura era che il pubblico non capisse che quella di Mark Zuckerberg in realtà è una scelta voluta, essere fuori sync. E quindi ci sono i soliti purboni che dicono hanno doppiato male fuori sync. Credo che fosse anche una paura, una preoccupazione dei South Park, tra i Parker e Matt Stone. Infatti c'è una persona che a un certo punto dice Ehi, ma sembra pure doppiato male e con degli effetti strani sulla voce. Quindi per giustificare anche per loro questa scelta. Vi racconto solo un aneddoto, un anetto su questo doppiaggio. Renato Novara, che doppia il CEO di Facebook, ha un istinto davvero, un grande professionista così elevato per il sync, che faceva fatica a rimanere fuori sync e istintivamente riusciva ad aggiustarmele al volo, a ritardarle, distenderle. E venivano quasi a sync. Allora dovevamo, no, guarda Renato, stavolta dobbiamo andare fuori sync. Poi dopo un po' abbiamo doppiato quasi esclusivamente sull'audio e quindi ci siamo ritrovati. Ma questo per fare dei complimenti a Renato, che ha un istinto del doppiaggio davvero... è difficile da affermare. E poi l'altro tema molto carino, che viene più spesso ribadito, è Facebook. Ciò che c'è scritto su Facebook è vero. Tanto che anche il bambino dice ma Facebook dice che è vero. Ma è falso. Ma Facebook dice che è vero. E ha sostituito un po' quello che una volta era quello che diceva la TV, quello che diceva il giornale, è vero. In questo caso ha ragione Cartman, che a modo suo dice pensa con la tua testa. Pensa con la tua testa. Poi, vediamo cos'altro che mi sono scritto. Ah, sì, importante, quello che combina il professor Chaos Butters. Egli dice io non faccio nulla di illegale. Metto in giro delle fake news, delle notizie false. Non c'è nulla di illegale. Ed è una cosa abbastanza comune ed è quello che mi è piaciuto anche di questa puntata perché è abbastanza una cosa che succede anche in Italia. Alle volte ci sono dei temi che noi italiani facciamo un po' fatica da comprendere, a capire. E invece questo qua, soprattutto di Facebook, c'è molto caro. E quindi le fake news, le notizie false, quelle che vengono spacciate come satira, ironia, magari facendo leva sul razzismo, facendo leva su alcuni istinti facilmente sovillabili, diciamo così. Ecco, è una delle caratteristiche di Facebook. E il papà porta Butters da Putin che, si dice, insieme alla Russia abbia messo in giro delle fake news per pilotare le elezioni americane e dice anche se una cosa non è illegale non vuol dire che debba essere fatta per forza. quindi, spesso si trovano dei personaggi che dicono ma io non ho fatto nulla di illegale no, è vero, ma era immorale. Quindi, bella puntata dove ci sono state tante cose messe insieme un'ultima cosa davvero un po' di polemiche qualcuno, ma di asini ce ne sono sempre Putin De Silvestri Lorenzo, il giocatore del Torino è venuto a trovarci è venuto a trovarci proprio mentre stavamo doppiando South Park e lui è un grande ammiratore del cartone, del prodotto oltretutto devo dire questa cosa Putin la riga di Putin perché dice Nietzir quindi non parla nemmeno italiano era mia era una mia riga e ha detto, senti Lorenzo, ma perché non provi a farla tu? lui si è divertito chiaramente una riga non è non si può dire che è doppiaggio lui non è un doppiatore non è nemmeno equiparabile a quelle marchette dei talent è stato gentile ci siamo divertiti ha fatto questa battuta quindi prima di dire ha doppiato ruba il lavoro ai doppiatori sappi Lorenzo che mi devi ben due caffè se non sapete perché due caffè allora dovete un po' guardare il mio sito cercare di capire quanto guadagna a riga un doppiatore questo è quanto mi ha mi ha sottratto Lorenzo quindi non ti perdonerò mai guardate la battuta e se vi risulta brutta fatta male allora magari a quel punto potete scrivere qualcosa ma oltretutto ha pure una bella voce un voce Nietzir comunque per questo è tutto per ora è tutto 21.04 la puntata ci sentiamo per la prossima puntata la 21.05 sorprese e continuiamo ad analizzare meglio le puntate di South Park che nascondono sempre delle cose molto interessanti quindi come dice Cartman nel videogioco passo e ciao